Allora, visto che sto ricevendo un sacco di richieste d'aiuto, un sacco di domande e soprattutto un sacco di pugnette, oggi torniamo ancora sugli aceri, torniamo sulla questione pre-autunnale, quindi ascoltatemi bene, perché molti di voi stanno già iniziando a fare cazzate sulle piante e poi il prossimo anno daranno la metà di quello che devono dare, ok? Ma prima, per quelli che mi chiedono, voglio acquistare un bonsai, ok? Questo è disponibile, costa giusto, per iniziare va benissimo, ok? Selezionato da me, è bello, tranquilli, è bello, ok? Chi vuole sp... scusate, sono a marcio come sempre, per chi invece vuole qualcosa di più spessore, eccolo qua, C'ha le foglie, non si vede un cazzo, però è uno show-in, non ha tagli, fa un culo, ha tutti i primari, pianta così, tronco così, ha tutti i primari, quando perderà le foglie, questo, ok? Tra l'altro, c'ho... mi è rimasto un liquidambar, per chi lo vuole. Per gli aceri, ragazzi, giù con le cazzo di mani, ok? Giù con le cazzo di mani, perché? Perché? Perché c'è questa diceria, teoria, perché i veri maestri in Giappone fanno, quando arriva l'autunno bisogna strappare tutte le foglie, prima che cadono, perché se no la pianta, poi dopo quando si fa la potatura, piange linfa, quindi perde linfa, muore, soffre, ma strappare le foglie a una pianta, secondo voi, non è un danno per la pianta, e quindi soffrirà e quindi ci saranno dei problemi il prossimo anno. Qual è la questione? Ragazzi, le piante in autunno hanno bisogno di accumulare e immagazzinare energia, quindi bisogna concimarle, bisogna farle prendere il più luce possibile, quindi per quelli che dicono, ah, dove devo tenere la pianta? Adesso ha il sole, il sole non picchia più, non è ancora autunno, però io tengo tutto così dov'è, non me ne frega un cazzo, però in linea di massima qua c'è il sole sempre, ok? Così più luce prendono e più riescono a fare i loro processi fisici, chimici, chiamateli come volete, elaborativi del concime, dell'acqua, del substrato, della clorofilla, è tutto quello che vi pare, ok? Per i super tecnici. Quindi adesso le piante vanno lasciate stare, di una potatura, se avete dei rami, dei cacci così, fatela, tanto alla fine. Con linea di massima le foglie che stanno lì, stanno lì per un motivo, quando iniziano a perderle, quindi quando iniziano a ingiallirle, lasciatele lì fino all'ultimo momento, cioè lasciatele lì e basta, cadranno da sole, se le staccate prima andate a spegnere la pianta prima, perché? Perché la pianta quando lavora ha le foglie su, quando invece è nel letargo le perde, quindi per quelli che dicono stacchele prima, perché? No, se le stacchi prima, la pianta avrà lavorato di meno, quindi avrà accumulato meno energia, che utilizzerà poi in primavera, ok? Quindi voi potete vedere la pianta come se avesse dei pannelli solari, che sono attaccati sopra, che gli permettono di accumulare, immagazzinare energia. Quindi se le stacchiamo prima, questa è una foglia di adesso, non c'entra un cazzo, se le stacchiamo prima, ok? Guardate questa foglia, questa raccoglie energia, senza fare i tecnicismi. Se la stacchiamo prima, la pianta non fa più questa cosa, e quindi si spegne, è come spingere un bottone on-off, ok? Quindi mandare prima in letargo la pianta, che profumo che fa queste cazze di liquidamba ragazzi, c'è un profumo che è incredibile. Quindi se voi staccate le foglie prima del dovuto, non fate altro che spegne prima la pianta, quindi impedirgli di fare e accumulare energia necessaria per la botta primaverile, ok? Perché in primavera voglio la botta primaverile, poche pugnette. Questo è stato chiaro. Poi la potatura la farete, o quando la pianta perde le foglie, oppure prima della ripartenza la pianta, no, piange linfa, la sua pianta è ferma ragazzi, in autunno, in inverno, soprattutto a gennaio, che spoglia, se tagliate, non piange linfa, ok? Quando è che piange linfa? In primavera quando riparte, perché dai tagli, un pochettino vi butterà fuori, semplicemente perché c'è di nuovo movimento, la pianta riparte, ma non è la fine del mondo, cioè l'unica cosa su piante che sono come metà di stomignolo, ma lì non bisogna fare potature, perché se tagliate, piange un po' di linfa, è finita, cioè è finita. È come tagliare la testa a una persona, muore, ok? Quindi, nel dubbio non potate niente, perché spesso fate le potature male, lasciate tutto così, prima della ripartenza, tagliate quello che non vi serve alla pianta, e li butta fuori gemme, quello è il periodo ideale, piangere un po' di linfa, mettete un po' di mastice, non vi rompete il cazzo, ok? Non staccate mai le foglie in inverno, ve lo ripeto in autunno, perché se no andate veramente contro la pianta, contro i suoi interessi, che ragazzi, quindi spero di essere stato chiaro. Per chi vuole essere un olivo, ce l'ho, è qua. Lo vedete? Costa il giusto, costa poco, ce l'ho da un annetto, se si vede, è un bel materialino, bisogna solo fare una potatura di rientro, ok? Però c'ho due aceri qui, c'ho un liquidanbar lì, c'ho un carpino nero lì, però non so neanche se lo vendo ancora, e poi non c'ho più niente, ok? Per carità, se volete spendere i soldi veri, c'ho tutto quello che volete, anche sto pino io vi vendo, perché cazzo non ne frega, però ci sono i soldi veri, ok? Claudiobonsai.com, ragazzi, acquistate quello che vi serve adesso, così siete a posto tutto l'anno, avete il concime, avete il substrato, partite col piede giusto, ad esempio, una pianta come questa, che onestamente costa una cazzata, se la volete, un acerino, questo ha fatto un falso rinvaso, lo metto in una ciotola, il doppio di questo, iniziate a concimare la bomba, e una botta di concimile, ho dato, vedete che verde che ha fatto, qui un po' in difficoltà, come vi dicevo, semplicemente perché ha preso una botta di sole, poi non so, magari è stata rinvasata, che cazzo era? Una cavalletta, sta rinvasata quando non si doveva, non lo so, comunque il prossimo anno ripartirà bomba, se avete paura, me la comprate in primavera, dopo che parte, non c'è nessun problema, ci vediamo il prossimo video, claudiobonsai.com, mi raccomando, scrivetemi in privato, mandatemi le foto della vostra pianta in privato, così vi spiego io che cazzo dovete farci, perché se andate nel vivaglio di fiducia, dal vostro maestro, quello con la dentiera, che intanto gli cade giù così, quelli che mangiano la crostata, quelli che bevono il vino, poi prendono le forbici in mano, che iniziano, ah un'altra cosa, prima di chiudere, vi faccio queste foglie qua, sempre del liquid ambaro, ok? Può succedere anche sugli aceri, su altri tipi di piante, per quelli che dicono, ah fungo, 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 cazzo, fungo, no, altro giorno ha piovuto forte, per due tre giorni, poi è ritornato il sole, il vento, pioggia, e la pianta ha fatto così, quindi questo è semplicemente, uno stress meccanico, quindi non succede niente, ok? Nel caso invece ci fosse un problema, tranquilli, fra un mese la pianta perderà tutte le foglie, quindi è già risolta la questione, ok? Poche pugnette, usate total force ogni cinque giorni, se avete un problema sulla pianta, invece ogni quindici, voi è preventivo, però, se le tre foglie sono rovinate, state sereni, perché non è la morte di nessuno, ok? Basta con quest'ansia, è una roba che almeno non si riesce più a controllare, sembra che questi bonsai abbiano delle caratteristiche differenti, dalle piante che vedete in giro, in natura, ma ragazzi, non sono le stesse identiche piante, stanno in un vaso, vengono curate, sistemate, semplicemente si dà forma, ai materiali che poi devono diventare dei bonsai, però, se non siete capaci, fidatevi di me, vi spiego tutto io, ok? Claudio bonsai.com, videocorso gratis sto mese, così imparate anche a impostare le piante, e ci vediamo nel prossimo video.